Musica Mercoledì 16 dicembre, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV Questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali che come sempre al mattino presto alle 7 e mezzo si apre con la lettura dei tre quotidiani con gli inserti locali, il Carrino, il Corriere e il Messaggero Cominciamo dal Santo del Giorno, oggi è Santa Delaide, il sole è sorto alle 7 e 35 e tramonterà alle 16 e 32 Per quanto riguarda il tempo c'è poco da dire, nel senso che sono giornate più o meno così come le stiamo vivendo in questi giorni molto blande, non c'è nulla da segnalare se non le foschie durante le ore più fredde della giornata per il resto fa freddo al mattino, si scalda durante il giorno, rifa freddo la sera e questo lo avremo fino a venerdì 18 dicembre quando sulla costa splenderà ancora il sole grazie a questo tempo stabile che ci sarà anche e perdurerà anche nel fine settimana anche gran parte della prossima, insomma avremo un Natale con il sole Andiamo subito a leggere dunque i giornali, allora cominciamo dal resto del Carrino Sulla scuola, sull'istituto Battisti di Fano, volano gli stracci tra la provincia e il Battisti non avete i numeri, giocate sporco, insomma è una questione di numeri c'è questo duro scontro tra il presidente della provincia Tagliolini e il preside Lombardi a sinistra il presidente Tagliolini, a destra invece Sergio Lombardi che è il preside del Battisti qual è la questione? La questione è che naturalmente il Battisti vuole mantenere l'autonomia dell'istituto mentre la provincia dice mi dispiace ma con questi numeri voi non potete più avere questa autonomia e perché gioca sporco? Perché? Perché come dicevo è una questione di numero e Daniele Tagliolini, il presidente della provincia, dice al preside non sono, o meglio, non conosce nemmeno il numero dei propri iscritti cioè quante persone vanno a scuola nel proprio istituto non sono 602 ma 580, dice Tagliolini con questi numeri la scuola ovviamente non ha più l'autonomia però è durissima la replica del preside Lombardi il quale dice Tagliolini sta giocando sporco con i numeri perché sa benissimo che i nostri iscritti a febbraio del 2014 erano 606 e non 580, 606 ed è quello il dato su cui si decide la programmazione scolastica di tutti gli istituti ma l'articolo poi è molto quello di Anna Marchetti troverete sul giornale di stamattina è più articolato e avrete la possibilità di capire un po' meglio con tanto di numeri un po' com'è la situazione poi Maratona invece è in comune per i 14 milioni a disposizione grazie alla legge di stabilità c'è tempo fino alla fine dell'anno per appaltare i progetti e ottenere lo sblocco il sindaco si lavora, dice, da mesi gli uffici sono stati rafforzati e le ferie rinviate al 2016 il comune di Fano infatti potrà spendere i soldi che aveva in cassa purché rivolti a progetti specifici che andranno appaltati entro la fine dell'anno ecco perché la Maratona, ecco perché bisogna fare in fretta dei 14 milioni, oltre 4 saranno destinati alle strade e non sono pochi un'altra fetta andrà agli edifici pubblici come il museo e il teatro la cronaca invece ricorderà qualcuno che un 27enne albanese fu arrestato dalla polizia di Fano dal commissariato di Fano con 77 grammi di cocaina occultati in un pensile della cucina lui fu arrestato, fu scoperto insieme ad un'altra persona, ad una donna ebbene questa persona purtroppo è finita, questo 27enne albanese l'altra sera è stato ucciso, dico purtroppo perché comunque può essere pure uno spacciatore ma quando muore una persona è sempre una disgrazia adesso qualcuno dirà purtroppo perché, beh adesso perché purtroppo è morta una persona quindi un 27enne albanese che è stato ucciso l'altra sera durante una sparatoria in un bar di Milano era stata la notizia e anche sui quotidiani locali perché appunto spacciava cocaina il 27enne ucciso appunto a Milano l'altro giorno c'è un titolare, un imprenditore, un ristoratore che invece è arrabbiato a Fano perché così all'improvviso, dice lui, hanno aperto un cantiere hanno sbarrato una strada e praticamente lui adesso è isolato stiamo parlando di un ristorante che si trova nel porto turistico si chiama Fish House, lui dice nessuno ci ha avvertito il titolare si chiama Alessandro Scarponi, lo vedete in questa fotografia nel tondo e dice nessuno ci ha avvertito e adesso praticamente siamo con il ristorante isolato l'altra pagina invece del resto del Carlino da Fano e Valle del Cesano racconta di un anziano che è stato travolto da un toro in fuga stava andando al macello il toro e quando ha capito che per lui era ormai fatta ha tentato di scappare intorno alle 9 e mezzo dell'altro giorno di lunedì mattina il toro era accompagnato da questo agricoltore che però se l'è fatto scappare di mano incolpevole questo anziano di 70 anni di saltare che stava scendendo dalla macchina è stato ferito però dovrebbe risolversi tutto, si dovrebbe essere già risolto tutto con poco insomma a parte la paura chiaramente Fossombrone, Fossombrone è contrario all'ospedale unico i 5 Stelle replicano il vice sindaco Chiarabilli problemi con i posti previsti per la lungodegenza alla conferenza dei sindaci alla discussione prevista all'area vasta Urbino Pelagaggia sarà assente scrive il quotidiano andiamo invece sull'altra pagina del Carlino per chiudere tra allarme terrorismo e giubileo è in arrivo un Natale blindatissimo parla il prefetto di Pesorvino Pizzi che dice ci saranno più controlli, più attenzione ed assistenza sanitaria poi da Villa Fastigi invece i famosi ormai pizzini fogliettini di carta quelli che usava se non ricordo male Rina inviati al nipote dal carcere per gestire il traffico di droga passavano anche da Pesaro le trame di un sodalizio sgominate dai carabinieri adesso invece andiamo sul Corriere Adriatico la pagina di Pesaro apre con il turismo natalizio che sta andando a gonfie vele a Pesaro anche forte dei numeri, record numeri come ha detto il sindaco di Pesaro Ricci li ha definiti numeri da paura per candelare con questa iniziativa che tutti quanti noi ormai conosciamo ora tutti conoscono i numeri dei nostri mercatini di Natale i vacanzieri troveranno nella lista dei gadget da portarsi a casa le candele con il nostro city brand con il nostro marchio il marchio della città city brand, marchio della città ormai questi termini inglesi che ci piacciono tanto che ci fanno tanto figo che usiamo dappertutto lo troveremo anche tra poco un altro termine e poi ve lo farò vedere allora dicevo task force anche eccone un altro task force per le vacanze controlli in centro storico cattedrale e anche nelle chiese sono stati rafforzati come dicevamo tutti i dispositivi di sicurezza sulle strade e sui locali nei locali sorvegliati speciali saranno anche le poste centrali le banche, i centri commerciali i supermercati e i negozi ma dateci un giubbotto antiproiettile adesso andiamo a fare quando si va a fare le compere al posto dei giubbotti quelli con il piumino dentro piume d'oca facciamo un bel giubbottino antiproiettile un bel regalino di Natale potrebbe essere un'idea allora dimissioni di sgarbi invece andiamo ad un'altra battaglia degli alberi di Natale qui siamo a Urbino dimissioni di sgarbi sotto l'albero di Natale il sindaco e Crespini mostrano le autorizzazioni Carrabs l'assessore uscirà con noi alla giunta tra Verdi e maggioranza tensione delle stelle e reciproche accuse sulla strumentalizzazione del critico l'albero di Natale al centro di piazza della Repubblica Urbino è diventato il simbolo della rottura dei rapporti tra i Verdi e la maggioranza vabbè andiamo sulla pagina di Fano invece adesso del Corriere Adriatico allora anche qui Sparatori al Bar muore un 27enne era stato arrestato a Fano poi sotto invece l'ambiente mai fatto tanto come adesso Mascarin l'assessore che vedete in questa foto parla del monitoraggio dell'aria parla del monitoraggio dell'aria poi di Rio Crinaccio dell'Arzilla e della bonifica dell'amianto in tutti gli edifici della città e ora parla anche della cava di Carrara finalmente qualcuno speriamo che si risolva qualcosa anche sulla cava di Carrara poi sulla situazione dice ancora Mascarin sulla situazione dei controlli a bell'occhi mi sorprendono certi toni ostili da parte del Comitato mentre in questo anno dice lui abbiamo posto le basi per la soluzione dei problemi da molto tempo esistenti ancora sotto consegnato dal proloco l'incasso della partita del cuore oltre 5.000 euro alla mensa di San Paterniano e alle associazioni sindrome di Williams l'associazione Maruzza e la GFH che è l'associazione genitori con figli portatori di handicap poi sulla pagina di Fano del Corriere sindaci attenti a cosa avallate conferenza di area vasta il forum chiede una proposta alternativa per la sanità casa della salute ancora taglia i posti letto e dimezzamento dell'orario dei punti di primo soccorso sempre dal Corriere e dal Battisti l'istituto cifre inesatte sulle iscrizioni per la sicurezza ci vogliono investimenti Poligioni e la Poligioni e la situazione nel Fanese scarsità di organico mezzi datati e scarsa videosorveglianza basta utilizzare i vigili urbani come bancomat perché si tratta di agenti di polizia giudiziaria Stefano Poligioni di recente è entrato a far parte del direttivo dei fratelli di fratelli d'Italia poi ancora dalla pagina di Senigallia del Corriere Adriatico tesoretto in tasca per lo shopping secondo uno studio di confartigianato i senigalliesi investiranno in media 140 euro per le prossime feste di Natale adesso apriamo il messaggero messaggero in apertura sulla pagina di Pesero banca Marche i correntisti i correntisti se ne vanno via perché perché giustamente dopo quello che è successo se ne vanno un altro fenomeno emerge tra le pieghe del dramma di decine di risparmiatori dopo l'assemblea decine di richieste di iscrizione per l'azione legale e collettiva sotto invece o meglio a centro pagina ho scritto Iova sulla sabbia una tribù che balla Giovanotti Iova o Giova forse Giovanotti all'Adriatica Arena fa decollare l'astronave in un crescendo di emozioni 8000 fans in delirio anche qui la cronaca dal carcere di Villa Fastigio Pesero Pizzini al nipote per il business della droga poi Candelara da record e Ricci lancia la città delle candele dopo la musica la bicicletta lo sport e i motori il sindaco conia un altro city brand andiamo sulla pagina di Fano invece adesso del messaggero per chiudere anche qui in evidenza in primo piano la battaglia dei numeri tra la provincia e l'istituto Battisti la provincia di Giovanotti i numeri non ci sono tagliolini cite dati forniti dal centro CPIA sui frequentatori dei corsi serali per lavoratori il presidente della provincia è drastico gli studenti dice sono 580 e non 602 l'autonomia ad un passo dalla perdita iscrizioni inferiori alla soglia minima poi qualcuno ha criticato il tempismo per la pulizia dell'ex caserma Paolini dove attualmente si può usufruire soltanto di un parcheggio che però sotto le feste di Natale è certamente un parcheggio che torna utilissimo lo è tutto l'anno ma ha maggior ragione in questi giorni dove la gente viene in centro a fare quel po' di spese che si riesce ancora a fare bene il parcheggio in questi giorni viene pulito e quindi resta chiuso quindi non si può parcheggiare niente sosta il divieto entrerà in vigore alle 21 di questa sera e resterà valido fino alle 10 di domani mattina però ecco come vedete si pulisce di sera quindi insomma non c'è poi tutto questo disagio arrestato a fano per droga finisce ucciso in una sparatoria e ancora sotto il pesce più buono si assaggia gratis iniziativa oggi e domani nei pressi del mercatino portuale della piccola della piccola pesca e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa Occhio ai giornali torna domani mattina alle 7.30 questa sera come sempre come di consueto invece l'appuntamento con il nostro telegiornale Occhio alla notizia a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci a voi Grazie a tutti.